L'auto di Drive Inter oggi accoglie sui sedili posteriori un giovane brillante e dal futuro assicurato. Un talento purissimo che rappresenta al meglio la benzina verde del vivaio nero azzurro. L'ospite di Drive Inter è Andrea Pinamonti. Buongiorno, ciao Andrea, ben trovato. Per un giorno è un talento importante non sentirsi mai arrivato. La tua carriera sarà un viaggio bellissimo, ma come pensi di affrontarlo senza la patente? I massimali della polizza di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, sono gli importi massimi che l'impresa assicuratrice si impegna a pagare in caso di incidente. Allora, i massimali della polizza... Vero. I cata di ottri vanno accesi insieme alle luci di posizione. No, falsa. Ta-da! Allora, eccoci tornati, un po' bagnati perché oggi lirugia. Piove. Andrea, complimenti, sei stato bravissimo. Grazie mille. Le sapevi tutte. Non me ne aspettavo neanche io, però andata bene. Le sapevi tutte. Hai qualche scaramanzia, qualche rito scaramantico prima della partita? Ma l'unico rito, diciamo, è quello di quando metto il piede, il primo piede nel campo di gioco, è quello di strappare dei ciuffi d'erba e straffinarlo sullo stemma dell'Inter. Questa è una cosa che faccio da 3-4 anni, da quando sono arrivato all'Inter e faccio tuttora, quindi penso sia questo il mio gesto scaramantico. Cosa ti colpisce di questa società? Sicuramente la storia dell'Inter, è una storia molto importante di un grande club, partendo dal fatto di quando ha vinto il triplete alcuni anni fa, è stato un punto nella storia, quindi per me è davvero un orgoglio farne parte, per il fatto anche che Tifo l'Inter sia io che tutta la mia famiglia da tantissime generazioni, quindi è davvero un orgoglio per me essere la San Siro. E che emozione è Andrea, entrare in uno stadio con 70.000 persone? L'esordio l'ho fatto l'anno scorso, quando il mister mi ha chiamato mi sembrava qualcosa di inimmaginabile, per il fatto appunto che già arrivare in Serie A per qualsiasi ragazza è un sogno, in più avere la fortuna di arrivarci nella tua squadra del cuore penso che sia qualcosa di incredibile. E tu chi sostituivi quando hai fatto l'esordio in Serie A? In Serie A sono subentrato a Eder. A Eder, quindi anche lì tremano un po' le gambe? Eh, un po' sì. Il cuore batte forte. Sì, quello sì perché come dicevo è un'emozione veramente grande. Tu quanto usi i social? A me piacciono i social, mi piace comunicare con i social, mi piace postare foto, principalmente Instagram. Sì. È l'unico social di cui proprio mi preoccupo, diciamo, continuamente. Che controlli quotidianamente, no, in poco in realtà, ogni ora. Sì, diciamo appunto quando sono a casa da solo, in pomeriggio così, una volta ogni tanto un occhio su Instagram. Eh sì, anche perché puoi vedere insomma cosa fanno i tuoi compagni, i tuoi amici. Sì, sì. Durante gli allenamenti, durante le partite, sono quelle dove infatti sul mio profilo sono principalmente queste. Poi capitano ogni tanto magari una foto per degli auguri di qualche mio amico che viva a casa mia in Trentino. Capitano quello, foto con i parenti. Dipendono magari da vari appuntamenti che ci sono nell'arco delle giornate. Il tuo idolo calcistico di sempre? Penso che dovrei dire sicuramente Ibrahimovic, come ho detto prima, per tutte le cose che fa. Però anche adesso da quest'anno e mezzo che sono in prima squadra ho avuto la fortuna di allenarmi con Mauro Riccardi. Anche lui penso sia qualcosa fuori dalla norma di tutti gli altri giocatori. Quindi ho davvero la fortuna di poter imparare da lui e sfrutto tutti gli allenamenti, tutte le occasioni che ho per imparare qualcosa di nuovo. Grazie a tutti.